Apre la biblioteca Pasquale Rotondi, quella Galleria Nazionale delle Marche, 20.000 volumi, una biblioteca specializzata. La novità riguarda il catalogo bibliografico che sarà online sul sistema bibliotecario nazionale. Sì, oggi è veramente un giorno molto importante per la Galleria Nazionale delle Marche perché inauguriamo questa biblioteca rinnovata. Come dicevi, è già una biblioteca dedicata a Pasquale Rotondi che la fondò negli anni 40 del 900 in omaggio alla prestigiosa biblioteca di Federico da Montefeltro che vantava più di 900 codici manoscritti. Oggi di questa biblioteca non è rimasto più niente perché è tutto portato a Roma alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Abbiamo una biblioteca rinnovata che è specializzata in storia dell'arte, con particolare riferimento alla storia di Urbino, del Palazzo e di tutta la storia dell'arte in generale. Conta più di 20.000 volumi e da oggi inauguriamo ufficialmente l'ingresso di tutto il catalogo bibliografico nel sistema bibliotecario nazionale, l'OPAC SBN, al quale noi aderiamo attraverso un polo regionale che è il polo Bibliomarche Nord. Una biblioteca che può essere fruita, può essere consultata, quindi proprio un aiuto anche ai ragazzi che già la stanno usando per ricerche nel mondo dell'arte? Certo, l'utente ha la possibilità di venire in sede dove abbiamo postazioni di consultazione, di lettura, ma può consultare la disponibilità di un volume anche accedendo fuori dalla biblioteca, da un computer, da un tablet, da un cellulare, può verificare la disponibilità di un volume presente anche nella nostra biblioteca.